Oggi qui a Piazzaro Solvente per presentare un'iniziativa di Incoming. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto a regia regionale, sarebbe quello di portare i buyers internazionali, in questo caso Messico, Canada e Stati Uniti, in Veneto. Perché abbiamo fatto questo tipo di operazione? Perché io sono convinto che è bene promuovere i nostri prodotti all'estero attraverso l'esportazione, ma è importante far conoscere ai buyers internazionali anche il nostro territorio, quindi accompagnare l'alta qualità delle nostre produzioni con la visita al nostro territorio perché è costituito da ambiente eccezionale, paesaggio eccezionale e soprattutto un turismo che è il primo in Italia, quindi accompagnare anche, oltre alla grande produzione, anche il valore immateriale che è dettato dalla nostra cultura. Quindi Stati Uniti e Canada sono due mercati abbastanza consolidati, la scoperta e la vera novità è il Messico. Sì, la vera novità è il Messico che ha una grande potenzialità di crescita, mi ha sorpreso il fatto che stiano incentivando il consumo di questo prodotto, del vino in quel territorio e noi invece in Italia facciamo l'esatto contrario. Credo che invece si debba riconoscere il vino per quello che è, che è un prodotto che è consumato con moderazione, è un prodotto di altissima qualità e che in certi casi fa anche bene. Dobbiamo in qualche modo seguire l'orme anche di chi magari per la prima volta si affaccia in questi mercati, il nostro mercato, il mercato soprattutto del vino, come fa il Messico e accanto alle nostre produzioni anche portare la nostra cultura, ma vedo che loro sono molto ricettivi e questo ci fa anche piacere. Una domanda. Il Messico proprio ha sottolineato come il Veneto sia così piccolo ma che in realtà opre molto. Sì, beh, questo è un'eccellenza che faremo difficoltà secondo me a farlo capire fino in fondo perché la Regione Veneto è la prima regione turistica d'Italia, 65 milioni di presenze, ha le più grandi destinazioni che ci sono in Italia perché c'è il più grande fiume d'Italia, c'è Venezia, ci sono i Dolomiti, ci sono le città d'arte, c'è Verona con tutto il suo blasone, abbiamo talmente tante cose da offrire e con un'enocastronomia che fa la parte del Leone e con la viticoltura che produce 11 milioni di quintali di uva all'anno, quindi prima in Italia, quindi stiamo concentrando in una piccola regione tutte le eccellenze possibili. È bello che il Messico l'abbia scoperto immediatamente. Assessore, una manifestazione importante e c'è un grande interesse intorno ad esso? È una manifestazione a carattere mondiale e quindi 54 paesi concentreranno la loro attenzione per qualche giorno su Venezia e sul alto piano di Asiago. È una manifestazione che coinvolge sicuramente atleti importanti ma anche delle persone che attraverso le loro disabilità possono visitare il nostro territorio e goderne comunque la possibilità di conoscerlo. È una manifestazione che ha 3 milioni di appassionati in tutto il mondo, soprattutto appassionati che arrivano da paesi molto cari al nostro turismo come il Nord Europa e i paesi scandinavi, quindi l'effetto e l'efficacia di una manifestazione di questo tipo per il turismo è veramente importante. Sport e turismo insomma a braccetto? Veneto ormai è diventata meta di tantissime manifestazioni sportive a carattere internazionale. Quasi ogni mese ospitiamo qualche manifestazione di diverse discipline, di diverse tipologie, di diversa importanza ma rivadiamo il concetto che il nostro territorio può essere visitato anche facendo dello sport, godendo dell'aria aperta, del nostro paesaggio e anche dei nostri prodotti. Comunque ospitare questi mondiali è una grande soddisfazione, un grande impegno anche finanziario da parte della Regione? Essendo la prima volta che il Veneto ospita una manifestazione di questo genere, ovviamente per noi è motivo d'orgoglio e anche motivo di soddisfazione perché è una manifestazione che sarà a cavallo di due realtà come la Regione del Veneto e il Trentino e questo rapporta il concetto di collaborazione, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo della montagna, del turismo per la montagna e ci aiuta anche a eliminare le grosse differenze che ci sono tra le due realtà. Ma poi è significativo anche questo legame tra Venezia e la montagna? Ormai è diventato Mast lo slogan dal mare alla montagna e attraverso Venezia che è una città ovviamente conosciuta in tutto il mondo, cerchiamo di attrarre sul nostro territorio queste manifestazioni e poi ovviamente di fonderle in tutta la realtà regionale e quindi Venezia mantiene questo ruolo di riferimento per il nostro turismo. Certo, vederli correre in mezzo ai turisti sarà da ridere, eh? Eh, anche questo sarà un bel impegno da un punto di vista dell'orientamento proprio tra i turisti.